Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon lunedì 14 marzo, giornata che comincia con un po' di sole dopo un weekend interamente contrassegnato dalla pioggia, tra poco vedremo situazioni e previsioni per la giornata di oggi, ma intanto concentriamoci sulla viabilità, andiamo a sentire Walter Gerbi dalla centrale operativa dei Vigili urbani. Bene, angolo Corso Caroli, dalle 7 a 19 in via Stadella 192, presidio Cube Scuola, GTT c'informa, è stato ripestinato il percorso degli autobus 24-27, 93 Barrato, in Corso Palermo, è tutto, buona giornata e buona settimana. Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità, noi passiamo a vedere la situazione del tempo che come vi dicevo questa mattina dopo un weekend di pioggia sta decisamente migliorando, abbiamo qualche nube nel cielo ma anche un po' di sole, temperatura intorno ai 10 gradi, qualcosa in meno la temperatura percepita per via di un'umidità ancora piuttosto alta, le notizie per la giornata però non sono del tutto positive perché questo cielo, questo clima ci dovrebbe accompagnare fino al pomeriggio, poi il cielo dovrebbe coprirsi e in tarda serata intorno alle 23 e verso la mezzanotte dovrebbe rincominciare a piovere nuovamente, pioggia che dovrebbe caratterizzare anche i prossimi giorni, per quest'oggi comunque temperature massime nell'ordine dei 13-14 gradi anche nelle ore più calde della giornata. Passando a vedere gli appuntamenti istituzionali di quest'oggi, vi segnalo che questa mattina alle 11 nella sede dell'ex Venchi Unica in via De Santis numero 10 ci saranno le inaugurazioni dei nuovi uffici della circoscrizione 3, poi alle 11.30 al ristorante del Cambio in Piazza Carignano l'assessore Altamura presenterà la guida alla scoperta di Torino e infine questa mattina sempre alle ore 12 nell'area ex Nebbiolo di Corso Novara 78 l'assessore Tricarico presenterà il rapporto 2010 dell'osservatorio sulla condizione abitativa della città di Torino. Andando a vedere le notizie di Torino Clic, adesso invece la nostra agenzia quotidiana che trovate in formato pdf sulla nostra home page, due notizie, la prima riguarda un'iniziativa sulla raccolta porta a porta a favore dei disabili, è stato evidenziato infatti in questi mesi nelle zone della città in cui viene effettuata la raccolta porta a porta con l'esposizione su strada dei bidoni dei rifiuti, sono state evidenziate alcune difficoltà da parte dei disabili ad accedere ai marciapiedi per l'errato posizionamento dei bidoncini da parte dei condomini. Allora la città e l'Amiat hanno predisposto una guida con delle immagini anche esplicative per spiegare come esporre correttamente i bidoni in modo da non dare fastidio alle persone con disabilità. Questa guida è in distribuzione presso le circoscrizioni, sarà disponibile anche a breve sul sito dell'Amiat per poter essere scaricata, qualche dettaglio in più lo trovate nella notizia di Torino Clic. L'altra notizia invece riguarda una intitolazione di una targa che c'è stata questa settimana, la settimana appena trascorsa, una targa ai Murazzi del Po dedicata a Mario Soldati, protagonista nel 1922 di un episodio di eroismo proprio sui Murazzi del Po quando si tuffò nel fiume per salvare un suo amico, Soldati come forse sapete anche è cittadino onorario di Torino, qualche dettaglio in più sempre su Torino Clic. Adesso andiamo sulla nostra home page, vediamo che notizie abbiamo selezionato tra quelle di quest'oggi per voi, la notizia relativa al convegno Qui e Ora, un convegno che è organizzato dalla città per oggi e domani alla Fondazione Sandretto Re Baudengo che illustrerà i risultati dell'esperienza del progetto Più Spazio Più Tempo in città, un progetto che ha riguardato negli anni scorsi il quartiere San Paolo. Adesso andiamo a vedere le telecamere del Consorzio 5T per dare un'occhiata al traffico in città in questa mattinata, qui siamo in Corso Moncalieri in direzione nord, come vedete la situazione è abbastanza tranquilla, molto meno in direzione sud sul lato sinistro dell'immagine. Questa è invece Piazza Derna sull'asse di Corso Giulio Cesare per arrivare verso il centro città, vedete abbiamo coda per immettersi nella rotatoria. Zona sud della città, Rotonda Maroncelli in direzione di Corso Trieste, anche qui traffico molto sostenuto questa mattina, andiamo a chiudere con l'ultima telecamera in Corso Siracusa, angolo via Tirreno, qui siamo in direzione ovest su Corso Siracusa, anche qua come vedete traffico sostenuto, evidentemente una mattinata un po' difficile per quanto riguarda la circolazione. È tutto per quest'oggi, grazie a Mario Parenna per la messa in onda, grazie a voi per averci seguito, l'augurio ovviamente di una buona giornata.